Consorzio di Bonifica, Coldiretti, Confagricoltura e CIA lanciano l'allarme siccità a tutta la comunità parmese, presentando i dati sull'emergenza in rigua che si è delineata anche nella nostra provincia nelle ultime settimane. Una situazione che da preoccupante è diventata drammatica, la luce delle alte temperature e delle previsioni non favorevoli sotto il profilo delle precipitazioni. Questa è una situazione ormai di emergenza ed è un'emergenza che è impossibile da bloccare con delle soluzioni dell'oggi. Quello che noi chiediamo è sicuramente l'istituzione di questo tavolo che è stato così oggi in qualche modo ricordato. Può essere una cabina di regia, può essere un tavolo della crisi, l'importante è farlo e farlo a breve. Ma soprattutto occorre una progettualità di medio e lungo periodo per quella che è la realizzazione degli invasi. E sull'oggi per domani? Sull'oggi per domani purtroppo secondo me si andrà verso un razionamento dei turni di irrigazione come sta facendo Piacenza con Pomodoro. Soluzioni noi ne abbiamo presentate diverse. Abbiamo un progetto nella bassa da 15,2 milioni di euro che abbiamo già presentato al Ministero ed è passato come progetto esecutivo al Comitato Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici in attesa di finanziamento e quindi della sua graduatoria che è il rifacimento delle canalette ammalorate nella bassa. Questo permette di evitare l'evaporazione e soprattutto le perdite connesse. Grazie.